Buonasera a tutti, bentornati a Libro del Mondo con Marco Pezzoni, buonasera. Buonasera a tutti voi. Parliamo subito dei lavori in corso a Parigi. Sono i paesi che hanno dato la propria disponibilità a limitare le emissioni, ma anche così la soluzione non è sufficiente perché ciò comporterebbe un limite a riscaldamento sui tre gradi, invece bisogna arrivare ai due gradi per evitare le peggiori conseguenze. Quindi questo è davvero un momento fondamentale per la storia del nostro pianeta e stiamo a guardare quello che sta succedendo. Abbiamo visto anche nelle immagini alcuni scontri che hanno accompagnato questo vertice dei potenti, scontri comprensibili data l'importanza appunto del tema che i grandi sono chiamati ad affrontare. Sì, certo. Intanto colpisce la dichiarazione di Hollande, il primo ministro, anzi il presidente della Repubblica Francese, che nell'introdurre i lavori ha ricordato come i cambiamenti climatici sono una minaccia ancora più grave del terrorismo e se lo dice Hollande che solo un mese fa ha subito proprio Parigi questo gravissimo attentato da parte dei terroristi dell'ISIS vuol dire che davvero la percezione finalmente ai livelli politici europei e internazionale è finalmente una percezione corretta sulla gravità, come dicevi tu, della situazione dei cambiamenti climatici. In realtà questa frase non è nuova, per esempio già alcuni anni fa uno dei maggiori esperti inglesi, consulente del governo della Gran Bretagna, disse esattamente e scrisse un libro proprio su questa cosa, cioè guardate, diceva tutta la politica a livello mondiale, a tutti i capi di Stato e di Governo, guardate che i cambiamenti climatici sono una minaccia per la stessa sopravvivenza della vita sulla terra, per la stessa sopravvivenza dell'umanità se non si interviene a modificare il modello di sviluppo, a intervenire sulle cause che provocano i cambiamenti climatici. E la causa numero uno, gli scienziati l'hanno individuata nei cosiddetti gas clima alteranti, cioè l'attività umana è stata individuata dall'IPCC e cioè dal gruppo di scienziati incaricati dall'ONU ormai da vent'anni di studiare i cambiamenti climatici dopo circa diversi esperimenti, esperienze, conoscenze anche sul terreno fatte da un numero crescente di scienziati a livello mondiale, sono arrivati dopo cinque rapporti che hanno fatto a distanza di quattro cinque anni l'uno dall'altro, l'ultimo rapporto di grandi dimensioni questo rapporto è stato fatto nel 2013 e nel 2014 e lì sotto accuse proprio l'attività umana, cioè l'attività umana, l'attività industriale, le automobili, il fatto che si usa soprattutto come energia ancora le fonti fossili, e beh queste, quindi carbone e petrolio, benzina e così via, queste sono le cause principali dell'attività umana della produzione di gas clima alteranti a cominciare da quello più importante tra questi gas clima alteranti che è l'emissione di CO2 in atmosfera. Accanto all'emissione di CO2 però ci sono altri gas altrettanto importanti che alterano il sistema di protezione dell'atmosfera sulla terra che è per esempio il metano. Il metano anche questo causato sia dall'attività umana sia dagli animali sia anche dal fatto che per esempio nella tundra e in gran parte della Siberia è tuttora imprigionato nel ghiaccio. Se il ghiaccio della tundra si scioglie e viene messo in atmosfera una quantità eccessiva di metano che va ad aumentare il cosiddetto effetto serra. Sono tutti fenomeni che ormai la scienza ha individuato con grande precisione quindi la responsabilità dei cambiamenti climatici è l'effetto serra, è l'emissione di gas clima alteranti, è l'emissione soprattutto di CO2, è l'attività umana. Ormai quindi quello che si deve fare è intervenire sulle cause. Lo diciamo ai nostri telespettatori questo della conferenza dell'ONU a Parigi e come dicevi tu praticamente con tutti gli stati del mondo che vi aderiscono è un lungo cammino iniziato nel 1992 con il summit sulla terra a Rio de Janeiro. Lì nel 1992 si è cominciato a individuare che cosa? Questa convenzione quadro dell'ONU a cui pian piano hanno diritto diversi paesi. La convenzione quadro dell'ONU è quella che ha convocato ovviamente la conferenza di Parigi però è entrata in vigore solo nel 1994 perché solo nel 1994 due anni e mezzo finalmente aveva quel numero di stati sufficienti per poterla rendere valida. E la prima conferenza delle parti COP21 significa che è la ventunesima conferenza delle parti che sono tutti gli stati del mondo che vogliono e possono intervenire sulle cause dei cambiamenti climatici. La prima conferenza COP1, conferenza delle parti numero 1, è stata fatta a Berlino nel 1995. Da allora si sono succedute ogni anno la COP2 e 3. La COP numero 3, cioè la conferenza delle parti numero 3, è quella di Kyoto. Ecco perché la convenzione di Kyoto sul clima è dentro questo percorso che è iniziato nel 1992 al summit sulla terra a Rio de Janeiro, poi la convenzione quadro dell'ONU, poi la COP1 a Berlino, poi la COP3, quella famosa di Kyoto, con la convenzione di Kyoto e poi si è arrivati a tentare un accordo internazionale vincolante dopo 15 anni con la COP15, quindi la conferenza delle parti nel quindicesimo anno dell'entrata in vigore della convenzione quadro dell'ONU che si è tenuta a Copenaghen e lì purtroppo è stato un mezzo fallimento. E da qui anche tutte quelle proteste che vedevamo. Certamente, a Copenaghen è lì però che si è individuato quello che tu dicevi, si è individuato che assolutamente per mantenere in equilibrio il pianeta, nell'atmosfera non si deve aumentare da qui ai prossimi 50, entro la fine del secolo, i tuoi gradi centigradi di aumento della temperatura. E' stato lì che è stato individuato almeno questo limite. Poi confermato a Cancun, cosa è successo? E' successo che però Copenaghen non è riuscito a imporre, diciamo così, una convenzione internazionale vincolante. Ecco perché oggi a Parigi, a 21 anni quindi, da questo lungo percorso che ho descritto che è arrivato a Chioto e che Chioto poi è entrato in vigore, pensate, solo nel 2005, perché anche lì troppi paesi hanno tardato ad aderire. E a Chioto solo la Russia l'ha fatto entrare in vigore, ma non ha aderito gli Stati Uniti, non ha aderito la Cina, non ha aderito il Canada e oggi quindi le perplessità su Parigi sono legittime perché finora non è entrato in vigore nemmeno la seconda parte di Chioto che doveva essere dal 2013 al 2020. E Parigi 2015, Cov 21, deve stabilire il dopo Chioto, non solo il Chioto che è entrato in vigore solo per alcuni paesi, ma è la seconda fase di Chioto che non è ancora entrata in vigore e quindi dovrebbe essere un trattato vincolante che o in parte sostituisce Chioto 2, mai entrato in vigore, o che entra in vigore nel 2020. Allora è chiaro che un po' di incertezza sulla reale volontà degli Stati, soprattutto di quelli che sono più grandi, più potenti e che ci tengono a mantenere la loro indipendenza, la loro autonomia, i loro interessi economici, può essere che non è detto che fra pochi giorni alla chiusura del Sammi di Parigi si riesca a fare, come dire, davvero un trattato internazionale vincolante per tutti. Speriamo che questa volta non debbano vincere come al solito gli interessi economici, ma che si aprano nuove prospettive. Sentiamo le prime dichiarazioni in questa COP21 di alcuni dei potenti del mondo presenti a Parigi e poi vedremo come finirà, insomma, vediamo. Siamo la prima generazione a subire l'impatto del cambiamento climatico e l'ultima a poter fare qualcosa. Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, davanti ai 150 leader mondiali intervenuti alla cerimonia inaugurale della conferenza sul clima di Parigi, ha sottolineato l'importanza del vertice, una delle ultime occasioni per intervenire. Sono venuto qui personalmente come leader della più grande economia del mondo, la seconda per emissioni, per dire che gli Stati Uniti non solo riconoscono il loro ruolo nell'aver creato il problema, ma si prendono anche la responsabilità di fare qualcosa a riguardo, ha detto. Paesi sommersi, città abbandonate, campi che non crescono più, tensioni politiche che provocano nuovi conflitti e nuove ondate di persone disperate in cerca di salvezza in altre nazioni. Questo futuro non è quello in cui ci sono economie forti o i paesi fragili possono trovare le loro fondamenta. Questo futuro è quello che noi abbiamo il potere di cambiare, ma solo se ci dimostriamo all'altezza. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle principali economie del mondo di onorare gli impegni assunti per garantire ai paesi in via di sviluppo un miliardo di dollari all'anno per affrontare i problemi posti dei cambiamenti climatici. Xi, al vertice internazionale sul clima che si è aperto a Parigi, ha invitato i paesi sviluppati a farsi carico di maggiori responsabilità condivise per limitare il global warming e aiutare i paesi poveri ad adattarsi a un mondo in sempre più rapida evoluzione a causa dei cambiamenti climatici. L'accordo di Parigi deve focalizzare l'attenzione sul rafforzamento di azioni concertate a livello globale dopo il 2020, ha detto il presidente cinese, per fare fronte ai cambiamenti climatici mondiali e intensificare gli impegni di tutti in direzione di uno sviluppo sostenibile. Futuro accordo deve venire in conto agli obiettivi delle Nazioni Unite e imbocare la strada delle energie rinnovabili, seguendo i principi e le regole poste dall'ONU e contribuendo alla sua completa ed effettiva applicazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un appello a responsabili politici di tutto il mondo al fine di dare vita a un approccio globale per fronteggiare i problemi posti dal global warming nel pianeta. Nel mio discorso alla settantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ho sottolineato la necessità di dare vita a un approccio globale per gestire i problemi legati al cambiamento climatico. In tale contesto, ha dichiarato Putin, intendo riaffermare ancora una volta la nostra proposta per la convocazione di un forum sotto legida dell'ONU, che serva da piattaforma per affrontare i diversi problemi sul tappeto. Non solo quelli collegati al cambiamento climatico, ma anche quelli connessi all'esaurimento delle risorse naturali e al degrado dell'ambiente umano. Ci auguriamo, ha concluso Putin, che attraverso impegni concertati di comune accordo saremo in grado di costruire una nuova intesa sul clima che sostituisca il protocollo di Chioto e sia in grado di servire agli interessi degli stati e dei popoli dopo il 2020. Chiaro che deve essere un accordo il più vincolante possibile, altrimenti corre il rischio di essere un impegno scritto sulla sabbia. Io la dico così, noi siamo in una fase in cui l'Italia torna ad essere protagonista, torna ad essere protagonista in tanti settori, anche in questo. E quando dico protagonista in questo dico che siamo un paese che davvero ha una leadership in alcuni settori. Quando vi dico che l'Italia è il leader in alcuni settori della green economy, quando penso ad alcuni champions, alcune aziende fondamentali della nostra economia che stanno dando degli obiettivi sfidanti e li raggiungono, dico che l'Italia è dunque in condizione di fare, di farci fare bella figura a livello internazionale, ma la vera questione di oggi non è tanto ciò che facciamo noi, ma ciò che fanno altri paesi, altri continenti e in particolar modo quelli cosiddetti particolarmente in via di sviluppo. Quindi è fondamentale che su questo possiamo lavorare perché Parigi produca un accordo. Sono ottimista ma è ancora lunga. È una partita molto difficile, eravamo adesso a pranzo, c'è stato anche un momento di confronto anche acceso su questo. Non sarà facile arrivare a un accordo, ma arrivare a un accordo è una condizione fondamentale. Noi dobbiamo uscire dalla retorica per cui l'Italia non fa abbastanza. L'Italia dal 1990 ad oggi ha ridotto le emissioni del 23%. Abbiamo un piano di investimenti per 4 miliardi di dollari da qui al 2020. Le nostre aziende, a partire dalle più grandi, Eni ed Ener, sono in prima fila. Siamo leader nella geotermia, tra i leader nel solare e nelle biomasse. Dunque abbiamo molto da dire e da dare in questo settore. L'Italia sta facendo la sua parte. Il vero problema che abbiamo oggi è che non tutti, ahimè. Allora, sì, il discorso poi va avanti. Lui dice che l'Italia sta facendo la sua parte. Renzi dice che adesso bisogna guardare all'impegno di altri paesi, soprattutto i paesi emergenti. In realtà sappiamo benissimo che anche alcune normative, alcuni quadri che sono stati adesso preparati per l'Italia prevedono in realtà degli altri tipi di politiche che vanno un po' in contraddizione con quali sono gli obiettivi invece della tutela dell'ambiente. Mi riferisco in particolare a nuove cementificazioni, a nuove trivellazioni e così via. Allo sblocco Italia. Allo sblocco Italia. Soprattutto a quella. Soprattutto allo sblocco Italia. Però una cosa positiva sicuramente l'Europa l'ha fatta e in effetti anche l'Italia nell'Europa comunque hanno questo ruolo importante in questa battaglia per l'energia verde e per un cambiamento di direzione. Poi nella pratica bisogna vedere quali sono in effetti le contraddizioni perché alcuni importanti risultati sono stati già raggiunti, per esempio l'anno scorso, nel 2014, già si era arrivata al 18% della riduzione delle emissioni che provocano l'effetto serra, centrando quindi uno degli obiettivi del cosiddetto 20-20-20, ossia riduzione del 20% delle emissioni entro il 2020 e gli altri invece c'è un po' più da lavorare sugli altri obiettivi che sono le energie rinnovabili, un aumento del 20% delle energie rinnovabili e un 20% in più del risparmio energetico. Comunque l'Europa si è molto impegnata e ha prodotto anche dei risultati, anche sotto forma di, come diceva anche Renzi, come si diceva prima nei servizi, di investimenti per favorire l'uso di energia verde nei altri paesi che stanno adesso uscendo sulla scena dei mercati internazionali, quindi come l'India, come altri paesi come il Brasile, eccetera. Quindi vediamo che in realtà quello che poi si deve vedere è appunto la coerenza con questi obiettivi. Innanzitutto diciamo che la partita più importante l'Europa la sta giocando proprio nel dare indicazioni strategiche tra il 2014 e il 2020 di cercare di modificare il modello di sviluppo per quanto riguarda l'energia e per quanto riguarda l'ambiente. In questo senso, giustamente, diceva Renzi, molto si è fatto in Italia e in Europa sulle energie rinnovabili, molto si è fatto sull'energia solare, molto si è fatto quindi anche sulla questione sempre più importante in Europa e in Italia della raccolta differenziata dei rifiuti, perché questo è un obiettivo importante della stessa Unione Europea che sa che i rifiuti, invece di essere bruciati, devono essere sempre più utilizzati come materie prime e seconde, visto che l'Italia e l'Europa importano soprattutto materie prime, non solo energia, ma anche tante materie prime come i metalli più preziosi e così via. Per cui differenziare la plastica, differenziare metalli, differenziare il vetro, differenziare carta e cartone, sono tutte attività che portano alla cosiddetta economia circolare. Non è un caso che proprio in questi mesi l'Unione Europea ha dato direttive importanti sulla strategia dell'economia circolare, è il problema però qual è? È la coerenza, come dicevi tu. Purtroppo su questa questione l'Italia, il governo italiano è parecchio carente, se non in aperta contraddizione, perché mentre si ha portato avanti il risparmio energetico, la coibentazione, la questione tuttora della salvaguardia per chi fa questo tipo di attività anche nelle proprie abitazioni, per il risparmio energetico e così via, del fatto di poter avere poi forme tarifarie di detassazioni interessanti, e tuttavia sulla questione dell'economia circolare, cioè di costruire piattaforme industriali avanzate di recupero, riutilizzo e riuso della materia invece che bruciarla, lì invece siamo ancora in aperta contraddizione. sanno molti indietro, non è un caso che si è tentato di proporre la costruzione in Italia di 12 nuovi inceneritori, per fortuna le regioni italiane, tutte di centro-destra, centro-sinistra, sono state abbastanza brave nell'opporsi a quest'idea di espandere, l'idea che solo gli inceneritori sono utili per bruciare i rifiuti, e purtroppo questo è un grande tema di contraddizione anche a Parigi, per cui non è vero che l'Italia, diciamo così, deve superare la retorica, l'Italia, compreso il governo Renzi, deve dire la verità, deve superare non tanto la retorica, ma la propaganda, allora un po' di propaganda, ciascuno fa la sua, va bene, ma sempre che si riesca poi a essere coerenti con alcuni impegni. Diceva per esempio alcuni presidenti presenti qui alla conferenza di Parigi che ci sono gli impegni, si poi si vedrà se questi impegni dei singoli stati diventeranno poi un accordo vincolante, è così, 149 paesi, comprese l'Unione Europea, si sono presentati a questo summit mondiale sul clima di Parigi portando ciascuno un proprio impegno scritto, perché? Perché lo prevede la convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici di cui ho parlato prima, per cui la maggioranza dei paesi che oggi sono presenti a Parigi ha già depositato un proprio impegno del proprio governo, del proprio Stato, del proprio paese per contribuire, mettendo poi insieme tutti gli impegni, a questo accordo probabilmente si spera vincolante. È così? Non è del tutto così, perché Obama, che sicuramente è un presidente, come anche capo dei democratici statunitensi, avanzato e sensibile su questi temi, però per esempio ha molti dubbi sul sottoscrivere un trattato internazionale sul clima vincolante fra pochi giorni a chiusura del vertice di Parigi. Perché? Perché lui è in minoranza sia al Senato statunitense, sia al Congresso americano, perché la maggioranza è in mano ai repubblicani e i repubblicani statunitensi proprio ancora in queste settimane, in questi mesi, credono e sostengono tesi assurde, arretratissime, perché gli Stati Uniti sono così, sono un grande paese dove trovi le tesi scientifiche e le innovazioni tecnologiche e sociali più avanzate, ma trovi anche associazioni e interessi molto arretrati e molto forti economicamente, tipo quello delle armi, su cui Obama riesce ancora a incidere molto poco, sul commercio individuale e la vendita di armi, ma così come il fronte del petrolio e del carbone. E queste grandi imprese multinazionali americane finanziano soprattutto esponenti del Partito Repubblicano come uno dei leader che si candida come Partito Repubblicano alla presidenza della Casa Bianca, che è Marco Rubbio. Marco Rubbio proprio in queste settimane ha sostenuto questa tesi antiscientifica, ma politicamente consolatoria e che fa gli interessi dei petrolieri. No, la CO2 e i cambiamenti climatici è vero che ci sono, ma non sono il prodotto solo o soltanto dell'attività umana, se non in minima parte. E quindi dobbiamo convivere con i cambiamenti climatici come se fossero un dato del destino, ma guai a intervenire sulle cause che poi gran parte degli scienziati, il 97% degli scienziati del mondo, concordano sul fatto che è l'attività umana a produrre cambiamenti climatici. Beh, ma scusa, non ci vuole un gran scienziato per vedere come, i dati di questi giorni, proprio la Lombardia risulti il posto più inquinato con numeri di decessi legati all'inquinamento, quindi non serve un grosso scienziato per capire che comunque l'attività umana ha una ripercussione importante. Certo, però serve onestà intellettuale e indipendenza, lo diciamo ai nostri telespettatori. Prima di sposare una tesi piuttosto che un'altra, bisogna che ciascuno di noi abbia un atteggiamento, diciamo così, onesto con se stesso, si guardi intorno e riconosca esattamente quello che dicevi tu, e cioè che l'inquinamento, che le polveri sottili, che la diossina, che comunque anche gli inceneritori più avanzati producono, ha effetti negativi sulla salute umana, soprattutto per chi vive nel raggio di pochi chilometri, ma non solo, che la pianura padana, essendo un grande bacino, no, e non avendo grandi possibilità di modificare il clima, è un po' come Los Angeles, dove non piovendo mai o comunque essendo in una situazione particolare, lì l'inquinamento è molto forte, è molto alto. La pianura padana è un grande bacino, dove effettivamente risulta che anche quelle città che magari producono più inquinamento industriale, poi essendo esposte meglio a qualche possibilità di essere più vicine alle montagne, più vicine ai venti, hanno una reazione che magari le rende, no, più vivibili e meno inquinate che non alcune città, come può essere Pavia, come può essere Cremona, come può essere Piacenza, che in realtà, essendo proprio nel fondo della pianura padana, hanno una mobilità della proprio cambiamento di areazione e di mutamento, no, delle situazioni atmosferiche molto più lento e quindi stazionano di più le polveri sottili, stazionano di più questi gas clima alteranti ed ecco perché è un interesse comune di tutte le regioni del nord Italia collaborare perché ci sia una riconversione ecologica dell'intera pianura padana. Tornando a livello globale, sono pericolosissime queste tesi affermate appunto dalla maggioranza del congresso adesso repubblicano negli Stati Uniti, sono pericolosissime perché alimenteranno delle politiche o delle tendenze politiche economiche che scateneranno sicuramente maggiori conflitti sociali, dato adesso l'emergenza in cui ci troviamo. Assolutamente, per esempio il cinese che anche lui difende in realtà, visto che è il primo inquinatore al mondo, però la sua autonomia di sviluppo si vedrà se la Cina insieme agli Stati Uniti che non fanno parte, non hanno mai sottoscritto Kyoto, sottoscriveranno questo accordo vincolante, però dicevo una cosa giusta, finora è stato creato dalle varie COP, dalle varie conferenze delle parti sul clima, un fondo verde per i paesi in via di sviluppo, questo fondo verde ha portato a solo, che sono tanti, ma a solo 30 miliardi di dollari di investimenti per il sud del mondo, per portare know-how, per portare tecnologie sostenibili con l'ambiente, ma il vero obiettivo già individuato in questi anni sono non un miliardo come diceva il servizio, ma 100 miliardi di investimento che da Parigi devono uscire per soprattutto sostenere le economie più fragili in via di sviluppo del pianeta, perché? Perché i cambiamenti climatici, come dice anche Papa Francesco, produrranno 200-300 milioni dei profughi ambientali nei prossimi decenni e i profughi ambientali dovranno per forza migrare o scappare o trovare diffugio nelle aree del pianeta che sono a temperatura ovviamente più accettabile, più sostenibile. Quindi ancora più del terrorismo e delle guerre, ormai i cambiamenti climatici sono la causa numero uno innalzamento del mare, alluvioni accelerate, desertificazione, sono il motore principale che spinge a spostare decine di milioni di persone. Allora i profughi per ragioni ambientali, se vogliamo in qualche modo limitarne il numero e cercare di rendere più abitabile tutte quelle zone dove oggi si fa per esempio il paese che viene citato più spesso è il Bangladesh. Il Bangladesh è a rischio in gran parte per chilometri e chilometri legati al mare di sparire e quindi milioni di persone andranno all'interno del Bangladesh o emigreranno in India o in altri paesi dell'Europa. Ma così sono a rischio anche tante altre realtà. Perché i ghiacciai si stanno sciogliendo, perché i due poli, il polo nord e soprattutto il polo sud, stanno perdendo la capacità di autogenerarsi di anno in anno. Soprattutto quello è stato fatto un bel servizio televisivo, in realtà in questi giorni anche da una rete come Sky sul fatto che è il ghiaccio marino che nell'Antartide si sta perdendo. Si innalza quello che è sopra la terraferma, perché l'Antartide a differenza del polo nord ha anche un sostrato di terra e di rocce. Quello si innalza, ma quello che non ci interessa. Ma quello marino si scioglie e va quindi a produrre un innalzamento dei mari. pensate che gli scienziati stanno dimostrando una cosa interessantissima per quanto riguarda gli oceani. La maggioranza del calore che c'è sulla terra appartiene ai primi due metri. Pensate a una striscia di due metri dalla superficie degli oceani in giù. Ebbene, nei due metri dalla superficie degli oceani in giù c'è più quantità di calore che non nell'intera atmosfera della terra. Se per esempio questa alterazione degli oceani si accelera, succede che anche tutte le correnti che oggi portano per esempio temperature più adatte che ne so, la corrente del golf in Inghilterra, oppure pensate al problema del Nino per quanto riguarda l'Oceano Pacifico, verranno alterati, verranno fermati, l'acqua calda non va più in profondità, non c'è più quindi un rimescolamento come è avvenuto in migliaia e milioni di anni negli oceani. Pensate quindi a quanto la terra è un sistema vivente unico e come l'atmosfera che è stata creata grazie all'ossigeno ma grazie anche al carbonio e l'atmosfera è una macchina termica al momento in equilibrio e perfetta. Questa macchina termica che si basa sull'ossigeno per gli esseri viventi e sul carbonio che sono il corpo degli esseri viventi, questo ciclo è fondamentale che non venga alterato. Ecco perché il ciclo del carbonio e quindi se si si mettono nell'atmosfera, macchina termica per ore in equilibrio, troppo CO2, tutto questo viene sconvolto come una macchina che impazzisce e non riesce più ad autoregolarsi come è avvenuto per 65 milioni di anni. Questa è la scienza che è arrivata e gli scienziati a scoprire sempre di più le cause profonde della nostra terra, casa comune ed ecco perché speriamo che in questi giorni a Parigi si arrivi davvero a questo trattato internazionale vincolante che parte dal 2020, che gli impegni siano coerenti, che anche l'Italia e la pianura padana davvero, come si è fatto molto sulle energie rinnovabili, però completi questa coerenza per esempio chiudendo progressivamente gli inceneritori e favorendo gli investimenti, i 4 miliardi di cui diceva Renzi, beh vadano l'economia circolare, vadano esattamente a fare quelle piattaforme industriali di trattamento meccanico, trattamento biologico, fabbrica dei materiali, recupero delle materie prime e seconde, che crea molti più posti di lavoro e soprattutto non produce CO2 e quindi non produce gas climalteranti. La politica o diventa coerente con quelle che sono le conquiste e le nuove letture scientifiche a livello mondiale o altrimenti perderà sempre di più credibilità. Questi tuoi auspici purtroppo mi gettano nello sconforto rispetto alla situazione reale, ma chissà, speriamo davvero che si possano attuare. Quindi siamo alla fine, io ti ringrazio e grazie a voi per averci seguito. Grazie a tutti voi. Arrivederci. Grazie a tutti.